Il Miglio Marino è patrocinato dalla Federazione Italiana Nuoto, dalla Regione Liguria, dal Comune di Genova e dal Municipio Settimo Ponente. La società Nicola Vameli ringrazia tutti gli organizzatori e i patrocinatori della gara e anche quest'anno ci hanno dato una grossa mano permettendo la realizzazione di questo terzo studio. Non segui, non seguirlo che va storto! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Dai, signor, vanno a metter il mondo! Ciao, ciao! Grazie a tutti! Queda arrivo! E i bambini! E i bambini! Dov'è? Siamo qui! Alla due! Alla due! L'aria? Pogliamo alla questione? La sessore è madura! E' morto! E' morto! Grazie a tutti. 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 Sonia. Grazie a tutti. 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 12, 20, 25, a tutti. 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 grazie a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. tutti. a tutti. a tutti. a tutti. , grazie a tutti. grazie a tutti. 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 bravo. bravo. bravo ragazzi. bravo. 20 quale parata. grande atleta. Filippo. Filippo. guarda. è bello. Filippo. guarda qui. è arrivato secondo. la prossima volta voglio arrivare secondo. io dico qui. anche io voglio arrivare secondo. Filippo. grande. Filippo. aspetta. Primo classificato! TB, TB! Un applauso a Roberto, primo classificato! Brava Sofia! Brava! Brava! Grazie! Grazie a tutti. 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 Applauso ai dottori varolesi che quest'anno hanno partecipato agli incontri. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.